Con la chiusura per lavoro di Villa Fondi, tutta la ripa ha subito dei nostri danni, praticamente ci siamo qui, martedì siamo venuti al 19 giugno, in locali quasi deserti, pochissime persone, questa è una zona che comunque in genere è molto frequentata, posiamo un secondo sul posto dopo la segnalazione da parte degli invenditori della ripa che hanno chiesto al Sindaco Ruggero di non fare i lavori in questo periodo, proprio per evitare questo calacomaggio. Il quotidiano della Costella partitana è prima del sudentino.